L'Aquila per confermare la seconda piazza conquistata nello scorso weekend. Il Ponte Vomano dopo la roboante vittoria di Francavilla è alla ricerca degli ultimi punti che mancano per la matematica permanenza in eccellenza. Una partita bella avvincente che non lascerà un attimo di respiro. Pronti via e doccia gelata per gli Aquilani, lancio lungo dalle retrovie, indecisione fra Colombatti e De Chirico e Bomber Polisena fa 1-0 al quinto minuto. Ponte Vomano strabordante, l'Aquila alle corde e al diciassettesimo Touret fa 2-0. Su un tiro di Dorazio dall'interno dell'area di rigore, De Chirico si fa trovare impreparato e Touret è il più lesto sulla ribattuta. I gialloneri calano il tris al quarantatreesimo, su un penalty assegnato dal signor Giallorenzo di Sulmona per un fallo di mano di Romanucci. Polisena spiazza De Chirico e mette a segno la sua doppietta personale. E l'Aquila? Nella prima frazione, rosso-blu non pervenuti. Andiamo nella ripresa, con le immagini di Flavio Forcellese. I rosso-blu tornano in campo, rabbiosi, convinti a provare a rapire l'incontro. Hanno l'occasione al terzo minuto, con un rigore assegnato per un fallo di mano di Monaco. Calcia massetti, ma la sfera sbatte sulla parte inferiore della traversa e poi sulla linea e torna in campo. Al sesto minuto, Shiba riaccende la fiammella delle speranze. Da una punizione calciata da Massetti, Shiba è il più lesto dall'interno dell'area piccola a battere Gava. Rosso-blu galvanizzati riaprono ufficialmente la gara al quattordicesimo, con Brunetti che da un corne di diruoco svetta più in alto di tutti e fulmina un incolpevole Gava. Rimonta che viene completata il diciottesimo con Shiba che realizza un penalty, accordato per un fallo di mano. Gava intuisce, ma la sfera termina in rete. Nel finale il Ponte Vomano ha ancora qualche occasione per portare a casa l'intera posta. Gara pirotecnica, bellissima, dai due volti. Primo tempo perfetto del Ponte Vomano. Ripresa rabbiosa e vehemente dei rosso-blu. Il finale da Villa Vomano è Ponte Vomano 3, l'Aquila 3. Siamo con Nicola Di Giacinto, dirigente del Ponte Vomano. Nicola, una partita dai due volti, una partita tatticamente perfetta nella prima frazione, nella ripresa poi è successo un blackout, ne è venuto fuori un 3-3 che probabilmente lascia scontenti un po' entrambe le squadre. Per quello che si è visto in campo, il primo tempo abbiamo giocato meglio noi. Tanto siamo stati un po' inceni perché siamo fatti riprendere tre gol. È chiaro che è venuta fuori la forza dell'acqua nel secondo tempo, però noi siamo calati vistosamente e solo nel finale ci siamo ripresi un po'. Un punto è sempre un punto, là il brutto era se la perdevamo. Comunque complimenti all'Aquila che ha recuperato questa partita, sapevamo che era una grossa squadra, però il ramarico resta perché primo tempo 3-0 non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Mister, una gara alle due volti, primo tempo davvero male poi nella ripresa, abbiamo sentito probabilmente nell'intervallo, negli spogliatori si è fatto sentire abbastanza. Approccio chiaramente negativo, abbiamo di fatto regalato un tempo, nel secondo tempo i ragazzi devo dire che sono stati strepitosi, non era facile ribaltare un risultato 3-0 su questo campo, che era comunque l'arma in più e lo sapevamo, su un campo dove anche la Vezzano ci ha perso, Giulianova ci ha pareggiato, quindi è un campo difficilissimo, essere usciti indenni da questo campo non è facile, ce l'abbiamo fatta, anzi se non avessimo sbagliato un rigore probabilmente staremmo raccontando un'impresa, però devo dire che i ragazzi hanno dato prova ancora una volta di una grande prova di carattere, io dico che fino a due mesi fa probabilmente questa reazione io non l'ho mai vista, quindi ti devo dire che siamo cresciuti, continuiamo in questo modo, adesso abbiamo questi benedetti 15 giorni per cercare di recuperare qualcuno che sono importantissime per noi. Ma noi siamo da oramai un lungo periodo in una fase in cui riusciamo ad esprimere il nostro potenziale, quindi il campionato di eccellenza non ci facciamo ingannare, non è semplice, non è semplice proprio per questi campi, se qualcuno pensa che qui si viene a fare la scampagnata ha capito proprio male, io dico che questo è un punto ottimo che ci dà morale e ci fa capire che quando acceleriamo possiamo mettere sotto chiunque.